Ciao a tutti i Leopardi, siamo al Palazzo Aldo con Luca Molinario. Luca, benvenuto. Per te questa sera la prima sfida in casa. Allora, il nostro benvenuto ufficiale qua nella casa dei Leopardi. È stata una partita... Cioè, c'è stato tanto pubblico. Questo mi è piaciuto un sacco. Tanti bambini che sono venuti a vedere la partita. Grande pubblico anche alla fine che ha cercato di supportarci e purtroppo non siamo riusciti a portarci la partita a casa. Quindi dai, ora martedì rientremo in palestra, lavoriamo e ci prepariamo per la trasferta di Saravalle. Grazie per te, un arrivo in corsa. L'abbiamo raccontato nella scorsa settimana. Allora, che aspettative hai per questo finale di stagione con la maglia dei Leopardi e che emozione essere qua con noi? Beh, allora, sicuramente le aspettative sono alte, sia mie personali che comunque della società. Quindi noi dobbiamo cercare di arrivare ovviamente tra le prime tre e le prime quattro in modo tale da avere il fattore casa. Quindi sicuramente dalla prossima partita abbiamo un girando di ritorno in cui giochiamo contro, diciamo, le più forti fuori casa e quelle un po' più abbordabili in casa, quindi dovremmo, diciamo, chiedere al nostro pubblico ma anche a noi stessi cercare di rendere il palagialdo il più impossibile da, come si dice, dovremmo vincere tutte le partite in sostanza in casa. E poi per quanto riguarda me e il mio arrivo sono contento, soprattutto perché appunto, come ho detto anche nel comunicato, rincontro dei ragazzi con cui ho giocato, rincontro Coach Conti, che comunque con cui ho fatto una bella annata due anni fa in crocetta e quindi vediamo, speriamo. Diciamo che l'inizio non è stato dei migliori, però fa lo stesso, è una parte del percorso. Ottimo, allora ancora grazie Luca e come sempre Leopardi Pride. Grazie a tutti.